Buon lunedì! Bentornati sul mio canale o se siete nuovi, benvenuti! Sono Elisa True Crime e come ogni lunedì mi siedo qua con voi e vi racconto una storia di True Crime che mi ha particolarmente scioccata. Come state? Spero stiate bene al contrario di me, che invece sto una schifezza. Vi chiedo scusa in anticipo se in questo video sarò un po' off, ma ho un raffreddore fortissimo. Quindi mi soffierò il naso 800 miliardi di volte, ovviamente taglierò quelle scene che non saranno piacevoli, ma se vedete che il mio naso improvvisamente diventa viola, è normale. Ovviamente non è niente di serio, è solo un raffreddore che succede quando ci sono 5 gradi fuori e poi il giorno dopo ce ne sono 25. Non ha senso questa cosa, io mi ammalo, sono vecchia, quando succedono queste cose mi ammalo. Quindi oggi sono qua con la mia scorta di facciolettini, il mio spray magico e ce la possiamo fare. Tra l'altro avevo già filmato questo video, se mi seguite su Instagram lo sapete, se non mi seguite su Instagram fatelo adesso. Avevo già filmato questo video venerdì, ma la mia camera, fotocamera come si chiama, ha deciso di non funzionare più e il mio microfono ha deciso di fare dei rumori inquietanti. Quindi, allegramente, sto rifilmando lo stesso identico video per la seconda volta, ma va bene, non importa. E tra l'altro ho preferito filmarlo anche se non sto al 100% bene, piuttosto che non far uscire il video del lunedì, non lo farei mai, non vi farei mai questo. Quindi insomma, abbiate pietà, non sarò al 100%, ma sono qui, insomma, non ho niente. Il caso di oggi, preparatevi, lo so che lo dico sempre, ma il caso di oggi è davvero scioccante. A volte mi avete chiesto qual è stato il caso che ti ha scioccata di più e penso di poter dire con sicurezza che sia questo qua. Questo è un caso che vi farà arrabbiare, è un caso molto triste, è davvero un escalation di cose orribili che succedono una dopo l'altra fino alla fine. Oggi parleremo della tragica storia della famiglia Powell. Questa è Susan Cox Powell, nata il 16 ottobre del 1981 in Oregon. Le persone che conoscono Susan la descrivono come una persona meravigliosa, assolutamente gentile con tutti, molto altruista, sempre molto sorridente, una di quelle persone che hai piacere ad avere intorno. Questo invece è Josh Powell, nato il 20 gennaio del 1976, anche lui in Oregon. L'infanzia di Josh non è stata proprio rosa e fiori. I suoi genitori avevano un matrimonio decisamente disfunzionale e quando divorziarono venne fuori che il padre di Josh, che si chiama Steven, aveva con lui un rapporto molto morboso, del tutto malsano. Pare che Steven avesse una dipendenza dalla pornografia e spesso e volentieri condivideva queste immagini chiaramente inappropriate con suo figlio Josh, che era solo un bambino. E pare che in generale inoltre si rifiutasse di educare i suoi figli o di imporgli anche solo dei limiti su determinati comportamenti, insomma quello che un genitore dovrebbe fare. Josh patisce molto questo ambiente familiare malsano e pare che quando era adolescente abbia ucciso i criceti che appartenevano alla sua sorellina e che subito dopo abbia preso un coltello da cucina e abbia minacciato di morte sua madre solo perché gli aveva chiesto di fare i piatti. E pare anche purtroppo che Josh abbia tentato il suicidio, sempre in età molto giovane. Quindi chiaramente Josh ha dei problemi, ha bisogno di essere seguito, ma questa cosa non è mai successa, non si è mai fatto seguire da uno psicologo. Crescendo Josh trova lavoro come web designer e ad un certo punto Josh incontra Susan. Josh e Susan sono entrambi mormoni. Abbiamo parlato di questa religione nel caso di Jody Arias, quindi come abbiamo visto è una religione molto rigida, ha delle regole molto definite, soprattutto quando si tratta di dedizione alla famiglia. Il matrimonio è visto come una cosa sacra e fare sesso prima del matrimonio è estremamente proibito. Quindi le persone che appartengono a questa chiesa spesso finiscono per sposarsi molto molto giovani. Infatti quando si incontrano Susan aveva soli 19 anni ma era certa al 100% che Josh fosse quello giusto per lei. Infatti si sposano molto in fretta e questa in realtà è una cosa che sorprende molto la famiglia di Susan perché succede tutto molto in fretta. Si conoscono, si innamorano e si sposano, quindi è stata un po' una sorpresa per tutti. Si sposano nell'aprile del 2001 e i primi anni il matrimonio va a gonfie vele. Da fuori la gente li guardava e vedeva una famiglia felice. Erano entrambi molto giovani, belli, con tutta una vita davanti, pronti a costruire la loro famiglia. Dopo un po' di tempo Josh e Susan decidono di lasciare l'Oregon e trasferirsi in Utah, in un posto che si chiama West Valley City. E il 19 gennaio del 2005 Josh e Susan hanno il loro primo figlio di nome Charles. E due anni dopo, il 2 gennaio del 2007, danno alla luce il loro secondo figlio Braden. Quindi a questo punto davvero sembravano la famiglia perfetta, la famiglia del mulino bianco. Ma come purtroppo spesso succede, le cose non erano proprio così come apparivano. Una delle amiche di Susan, con cui Susan era amica da quando era bambina, racconta che Susan le aveva confessato che la sua relazione con Josh non era così perfetta come sembrava. E che c'erano tante cose che succedevano e di cui nessuno era conoscenza. Susan confessa che Josh era molto aggressivo con lei verbalmente ed era molto possessivo. Diceva continuamente che Susan era di sua proprietà. Le diceva che cosa poteva o non poteva fare, che cosa poteva indossare. Voleva sapere dove si trovava in ogni momento. E questo atteggiamento, come abbiamo imparato da questi video, è sempre, sempre un campanello d'allarme. E soprattutto non è amore. Capiamo che l'amore è libertà. Se non c'è libertà, non importa come lo chiamate, ma non è amore. Punto e basta. Non ci sono se, non ci sono ma. Susan aveva anche confessato che ogni volta che cercava di parlare con Josh e ogni volta che cercava anche di lasciarlo, Josh reagiva in modo esagerato, dicendo che senza di lei non avrebbe potuto vivere, che si sarebbe tolto la vita se lei lo avesse lasciato, ma soprattutto la minacciava ricordandole che avevano dei figli in comune, facendole capire che se Susan l'avesse lasciato non avrebbe mai più rivisto i suoi figli. E pare che Josh avesse un comportamento malsano, ovviamente, anche con i suoi figli. Pare che controllasse addirittura quanto mangiavano. Diceva che non capiva perché doveva spendere soldi per dar da mangiare i suoi figli quando all'asilo consumavano già un pasto al giorno, e che per un bambino un pasto al giorno era più che sufficiente. E più volte Susan ha dovuto chiedere di nascosto del cibo alla sua vicina di casa per sfamare i suoi figli. Josh aveva addirittura detto a Susan di non andare a correre tutti i giorni, ma di andare piuttosto a giorni alterni, così che dovesse lavarsi di meno, e così Josh avrebbe potuto risparmiare dei soldi per l'acqua. E questa amica di Susan racconta che Susan non le aveva mai parlato dei trascorsi di Josh, e dei disturbi palesi che aveva mostrato quando era piccolo. Probabilmente Susan non sapeva nulla di queste cose perché questa sua amica giura che se Susan l'avesse saputo gliel'avrebbe raccontato perché le raccontava tutto. Pare anche che da un certo punto in poi Josh abbia perso completamente l'interesse per Susan, tanto che Susan era a conoscenza della data esatta del concepimento del loro ultimo figlio perché quella era l'ultima volta che avevano avuto un rapporto. E a tutti questi meccanismi malsani che si erano innescati nella coppia si aggiungono anche dei gravi problemi finanziari. E anche qua abbiamo visto in tanti altri casi come spesso i problemi finanziari possano aggravare delle situazioni che sono già problematiche di loro perché sono fonte di un forte stress ovviamente. E nell'aprile del 2007 Josh dichiara bancarotta e nello stesso anno succede una cosa un po' strana e anche un po' inquietante se pensiamo a quello che succederà poi dopo. Susan fa un video. In questo video lei mostra tutta la sua casa, praticamente mostra tutti i loro possedimenti e li elenca e dice esplicitamente Adesso andiamo un po' avanti nel tempo, al 6 dicembre del 2009. Quella mattina Susan insieme ai due figli Braden e Charles che avevano rispettivamente 4 e 2 anni vanno in chiesa e una volta tornati dalla chiesa una loro vicina di casa va a fargli visita e se ne va intorno alle 5 del pomeriggio. Il mattino dopo, il 7 dicembre, Susan avrebbe dovuto portare i bambini all'asilo come faceva tutti i giorni ma all'asilo non si presenterà mai. E fortunatamente l'asilo appena vede che Susan non si presenta capisce subito che c'è qualcosa di strano e decide di chiamare sua sorella che si preoccupa subito e decide subito di andare a casa di Susan e Josh. Quando arriva lì bussa alla porta ma non riceve nessuna risposta. Inizia a preoccuparsi seriamente e dice che il suo primo pensiero, la sua prima paura sia stata che forse la famiglia era morta in seguito ad un avvelenamento da monossido di carbonio che è quel gas che emettono alcune stufe. Quindi insomma ha pensato subito al peggio si è spaventata e chiama subito la polizia. Quando la polizia arriva decide subito di buttare giù la porta e entrare in casa. Ma quando entrano non trovano nessuno. Non c'era in casa né Susan né i bambini ma trovano il suo cellulare e la sua borsa. E questo purtroppo non è mai un buon segno perché se uno uscisse di casa di sua spontanea volontà si porterebbe dietro il cellulare, i documenti, il portafoglio. Invece in questo caso Susan aveva lasciato tutto in casa. Trovano anche due grossi ventilatori che sembrava puntassero al tappeto come se il tappeto fosse stato lavato e qualcuno volesse che si asciugasse molto velocemente. Al che ovviamente chiamano subito Josh e scoprono che i bambini ce li aveva lui ed era appena tornato da un improvviso viaggio in campeggio. Josh dice che la sera prima in modo totalmente spontaneo lui e i bambini avevano deciso di passare la notte in campeggio ma che Susan non era voluta andare con loro e che non aveva nessuna idea di dove potesse essere. E sono partiti per questo pernottamento in campeggio dopo mezzanotte della sera prima. Ora se siete mai andati in campeggio lo sapete io ho passato praticamente tutta la mia infanzia tutte le state in campeggio. non parti dopo mezzanotte soprattutto se devi andare con due bambini piccoli ma soprattutto a dicembre nel bel mezzo dell'inverno e in questo posto faceva freddissimo era pieno inverno c'era la neve ovunque. e inoltre Josh sarebbe dovuto andare al lavoro la mattina dopo ma non ci è andato perché era in campeggio e quando gli hanno chiesto perché non sei andato a lavoro e perché non hai neanche avvertito il tuo capo che non saresti andato a lavoro lui ha risposto che si era confuso ero convinto fosse domenica oggi non lunedì ve lo giuro ha detto questo si era confuso pensava fosse domenica ma comunque Josh dice di aver portato i bambini in questo campeggio che si chiama Simpson Spring in West Utah la polizia va in questo posto a controllare che effettivamente ci siano stati ma a causa della troppa neve fresca non riescono a trovare delle prove e un'altra cosa assurda di questo caso è che Josh ha impiegato ben due giorni per avvertire la famiglia di Susan del fatto che lei fosse scomparsa e la famiglia di Susan dichiara che quando Josh li ha finalmente chiamati comunque non ha mostrato nessun segno di preoccupazione o di ansia e a questo punto nessuno aveva idea di dove Susan potesse essere e Josh non era effettivamente un sospettato la polizia aveva dei dubbi su di lui ma non avevano abbastanza prove per nominarlo ufficialmente un sospettato e dopo solo un mese dalla scomparsa di Susan Josh decide di trasferirsi e questa cosa ovviamente ha incrementato i sospetti di tutti perché comunque se tua moglie scompare tu vuoi stare a casa o comunque aiutare nelle ricerche aspettare nel caso in cui magari tornasse a casa oppure qualcuno la trovasse invece Josh no ha deciso di trasferirsi a Washington si trasferisce insieme ai suoi due figli e i tre vanno a vivere a casa di Stephen il padre di Josh passa del tempo nell'estate del 2010 ancora nessuno purtroppo sapeva nulla di dove Susan potesse essere e i bambini si trovano ad un campo estivo quando ad un certo punto Braden fa un disegno molto inquietante disegna un furgoncino e su questo furgoncino c'erano lui il suo fratellino Charles e suo padre e quando l'insegnante gli chiede la tua mamma dov'è? lui risponde è nel bagagliaio e pare che anche suo fratello Charles una volta era a scuola e pare abbia detto a un insegnante che sua mamma era morta dice anche di ricordarsi che quando sono partiti per questo pernottamento in campeggio erano tutti insieme la mamma era con loro ma quando invece sono tornati la mamma non c'era più quindi palesemente questi due bambini sono testimoni di qualcosa che è successo quella notte ma nonostante questo la polizia ancora non riteneva di avere sufficienti prove per arrestare Josh ma a questo punto la gente è convinta che Josh sia coinvolto in qualche modo nella sparizione di Susan al che Josh inizia a sentire queste pressioni e decide di chiedere aiuto a suo padre Stephen per difendersi farsi aiutare insieme Josh e Stephen decidono di provare a far passare Susan come malata di mente dicono che Susan era mentalmente instabile e che questo è un possibile motivo per cui lei si è andata via di casa di sua spontanea volontà e in un'intervista inoltre Josh dichiara che Susan probabilmente lo tradiva e che l'amante poteva essere un giornalista di nome Stephen Kosher che era un uomo scomparso anche lui solo pochi giorni dopo Susan e quindi Josh diceva vedi Susan mi tradiva con quest'uomo infatti sono scomparsi entrambi questo perché sicuramente sono scappati via insieme il problema con queste accuse è che tra Susan e quest'uomo non c'era nessuna connessione non si conoscevano neanche e oltretutto questo giornalista era scomparso da Las Vegas che si trovava a più di 600 chilometri da dove Susan era scomparsa quindi queste accuse non avevano totalmente senso erano palesemente un modo ridicolo di depistare la polizia o le persone e poi il padre di Josh Stephen ha iniziato a comportarsi come l'uomo più viscido del pianeta ha rilasciato un'intervista in cui dichiarava che Susan ci provava palesemente con lui e quest'uomo a quanto pare aveva addirittura scritto una canzone su Susan che si intitolava Segretamente e che aveva postato sul suo sito La famiglia di Susan era ovviamente oltraggiata dalle accuse di Stephen nei confronti di loro figlia sapevano che erano solo bugie e questo perché Susan gli aveva parlato più volte di Stephen dicendo che provava un sentimento di repulsione nei suoi confronti perché Stephen in più occasioni era stato completamente inappropriato con lei cercava sempre di toccarla cercava sempre di massaggiarla era viscido nei suoi confronti e Susan ne era terrorizzata quest'uomo era rinomato per essere disturbato per avere dei problemi e pare che il vero motivo per cui Susan e Josh si siano trasferiti dall'Oregon all'Ojuta era proprio perché Susan aveva voluto allontanarsi il più possibile da Stephen perché pensava anche che quest'uomo fosse un'influenza assolutamente negativa su suo marito quindi la polizia capisce che c'è qualcosa che non va con questo Stephen e decide di perquisirgli la casa e in questa perquisizione trovano un mucchio di roba hanno prelevato ben tre computer e quattro scatole piene zeppe di materiale da analizzare tra cui più di 4500 foto di Susan che Stephen aveva scattato senza che lei lo sapesse quanto è inquietante quest'uomo e tra queste foto c'erano anche proprio degli zoom di alcune parti del corpo di Susan il 22 settembre Stephen fu arrestato per possesso di materiale pornografico infantile e per voierismo che è quando spì una persona senza che questa lo sappia ma lui ovviamente si dichiara non colpevole ma quando la polizia scopre tutto ciò decidono subito di togliere i bambini a Josh che in quel periodo stava vivendo in casa con Stephen quindi chiaramente quello non era un ambiente appropriato per due bambini piccoli al che i genitori di Susan provano subito a ottenerne la custodia d'altronde erano i loro nonni e questo anche perché iniziano ad aver paura che Josh possa in qualche modo far del male a questi bambini tenendo conto del fatto che a quanto pare probabilmente questi due bambini sono testimoni di quello che è successo quella notte e nel settembre del 2011 il giudice concede la custodia dei bambini ai genitori di Susan e il giudice dice a Josh che se avesse lasciato casa di suo padre Stephen e si fosse trovato una casa per i fatti suoi allora poteva vedere i suoi figli più volte a settimana ma sempre con una supervisione da parte di un assistente sociale al che Josh accetta e si affitta un appartamento da solo e all'inizio gli era consentito vedere i suoi figli solo in una struttura di visita designata ma sempre con la supervisione di un assistente sociale ma dopo un po' di tempo hanno deciso che Josh poteva vedere i suoi figli in casa sua sempre con un assistente sociale presente e questo è stato un errore madornale questa è Elizabeth Hall ed era l'assistente sociale responsabile di supervisionare le visite tra Josh e i suoi figli e col tempo ovviamente Elizabeth si era affezionata molto a questi due bambini il primo febbraio del 2012 Josh ha un appuntamento in tribunale che faceva parte di tutto il processo che stava seguendo per poter riottenere la custodia totale dei suoi figli ma mentre era in tribunale il giudice tira fuori un elemento totalmente nuovo perché a quanto pare la polizia aveva trovato sui computer di Josh delle immagini davvero allarmanti queste immagini erano ovviamente immagini pornografiche ma molto inquietanti però non erano delle foto erano dei disegni erano tipo cartoni animati pornografici e per farvi capire quanto erano inquietanti se fossero state delle foto sarebbero state illegali ma siccome erano dei disegni allora non erano illegali ma erano comunque motivo di preoccupazione al che il giudice prende la decisione definitiva di lasciare la custodia dei due figli ai genitori di Susan fino a che non avessero sottoposto Josh ad un test psicosessuale questo per capire che problemi avesse quest'uomo insomma e Josh non ha preso per niente bene questa notizia questa parte ragazzi preparatevi perché è tremenda questa storia va sempre solo peggiorando ve l'ho detto all'inizio va sempre solo peggiorando la polizia sostiene che dopo aver ricevuto questa notizia Josh abbia iniziato a escogitare questo piano malvagio perché appena uscito dal tribunale Josh va in banca e preleva dal suo conto 7000 dollari e successivamente va a comprare della benzina tanta tanta benzina pare che compri almeno una ventina di taniche e poi va in un negozio dell'usato e dona tutti i giocattoli dei suoi due figli e il 5 febbraio del 2012 i bambini avevano la solita visita supervisionata con Josh e quella mattina continuavano a dire ai loro nonni quanto non volessero andare dal padre non volevano andarci ma gli assistenti sociali dicevano sempre che quando poi erano insieme i bambini sembrava si divertissero molto erano felici di stare col padre quindi i loro nonni hanno pensato che quella mattina stessero solo un po' facendo i capricci quindi hanno cercato di rassicurarli dicendogli ma non vi preoccupate andrà tutto bene vostro padre ha tante attività divertenti che vuole fare con voi vedrete che vi divertirete quindi Elizabeth l'assistente sociale va a prendere i bambini e li porta a casa di Josh che distava circa 10 minuti da casa dei nonni dei bambini i genitori di Susan e mentre erano per strada Josh invia una mail a tutti i membri della famiglia e in questa mail c'era scritto solo mi dispiace addio e lascia anche un messaggio vocale molto inquietante la sorella di Josh sente questo messaggio e si preoccupa immediatamente e decide subito di chiamare il 911 prova anche a chiamare Josh ma ovviamente non riceve nessuna risposta nel frattempo Elizabeth arriva davanti casa di Josh parcheggia la macchina sul vialetto e appena fatto questo i due bambini escono dalla macchina e iniziano a correre verso la porta d'ingresso e Elizabeth dice che questa era una cosa che i bambini facevano sempre una volta arrivati davanti casa del padre erano subito molto felici emozionati al che Elizabeth anche lei scende dalla macchina e inizia a camminare verso la porta d'ingresso dove c'era Josh che gli aspettava con la porta aperta quindi i bambini corrono dentro casa ma prima che Elizabeth possa anche lei entrare Josh le lancia uno sguardo molto strano e le sbatte la porta in faccia chiudendo la chiave quindi ora i bambini sono all'interno della casa insieme a Josh e Elizabeth l'assistente sociale si trova al di fuori della casa Elizabeth inizia ad urlare chiedendo a Josh di aprire la porta e ad un certo punto sente Josh dire a suo figlio Charles Charles guarda ho una bella sorpresa per te e subito dopo sente Brayden che inizia a piangere e a urlare e scopriamo in seguito che Josh in quel momento stava attaccando i suoi figli con una cetta e subito dopo Elizabeth inizia a sentire puzza di benzina chiaramente Elizabeth chiama subito il 911 e preparatevi perché questa è la telefonata più frustrante che io abbia mai sentito perché l'operatore chiaramente non capisce l'urgenza e la gravità della situazione non capisce Sì, sì, ma'am. Sì. E infatti quando la polizia arriva sulla scena ormai è troppo tardi. E pochi secondi dopo questa telefonata Elizabeth si gira e vede la casa di Josh esplodere completamente. E purtroppo nessuno sopravvive a questa esplosione tranne Elizabeth che si trovava all'esterno della casa. Ovviamente questa è una tragedia orribile, la gente era completamente sotto shock. E chiaramente a questo punto tutti sono convinti che Josh fosse coinvolto anche nella sparizione di sua moglie. Diciamo che tutti già lo pensavano ma questa cosa ha dato conferma. Nel luglio del 2017 Stephen esce di prigione dopo aver scontato 7 anni. Ma muore il 23 luglio dell'anno successivo per problemi cardiaci. E nell'agosto del 2012 la polizia ha rilasciato dei dettagli davvero molto interessanti su Josh. Pare che subito prima della sparizione di Susan, Josh abbia cancellato tutti gli appuntamenti abituali che Susan aveva con un chiropratico. E si era anche sbarazzato del suo conto pensionistico. E addirittura a quanto pare ha parlato con un suo collega di come far sparire un corpo. E nello specifico parlava di come far sparire un corpo in una miniera. L'11 febbraio del 2012 è stato fatto il funerale ai due bambini. Ma il corpo di Susan purtroppo ad oggi non è ancora stato ritrovato. I suoi genitori hanno lottato per tanto tempo per far dichiarare ufficialmente morta Susan. Così da mettere un punto a questa storia, così da avere un po' di pace. Perché purtroppo sono tutti convinti che Susan sia morta. E un'altra cosa ancora assurda in questo caso è che pochi giorni prima che Josh morisse, pare avesse nominato suo fratello Michael come principale beneficiario della sua polizza sulla vita. E la polizia ha interrogato più volte questo Michael. Perché avevano scoperto che due anni dopo la scomparsa di Susan, Michael si era sbarazzato della sua macchina abbandonandola in una discarica nell'Oregon. La polizia sospetta che Michael abbia collaborato con Josh e che siano entrambi coinvolti nella sparizione di Susan. Ma l'11 febbraio del 2013 Michael si è tolto la vita saltando da un palazzo. E pare che dopo questo evento la polizia ha chiuso il caso. E poco dopo è stato ritrovato un testamento scritto a mano proprio da Susan che diceva se dovessi morire potrebbe non trattarsi di un incidente anche se dovesse sembrarlo. E dava delle istruzioni molto precise a chiunque avesse trovato questo testamento di non mostrarlo a suo marito Josh perché lei non si fidava di lui. E ci sono in realtà tantissimi altri dettagli su questo caso che non riesco a mettere tutti in un video perché diventerebbe davvero un video chilometrico. Come per esempio che a quanto pare avevano anche trovato delle prove che dimostravano che Josh abusava in modo intimo dei suoi due figli. Ma non siamo sicuri al 100% perché in questo caso ci sono così tante domande che sono rimaste senza risposte perché sono morti tutti. Nel dicembre del 2017 la famiglia di Susan ha fatto causa ai servizi sociali dello stato di Washington ritenendoli responsabili della morte dei loro nipoti. Perché secondo loro non avrebbero dovuto permettergli di continuare a vedere il loro padre perché chiaramente i due bambini erano testimoni di qualcosa che appunto era successo quella notte e il padre lo sapeva. Questa è una tragedia orribile che si sarebbe potuta evitare. E nel 2020 quindi non molto tempo fa hanno vinto questa causa e lo stato di Washington li ha risarciti di 98 milioni di dollari. E questo amici miei era l'orribile tragico tragico caso della famiglia Powell. Mi dispiace così tanto per Susan, per i suoi figli, per la sua famiglia. È davvero è davvero una storia orribile. Sono tutte storie orribili chiaramente quando ci sono coinvolti dei bambini è sempre un po' più difficile parlarne. Grazie per aver passato il vostro tempo con me come al solito. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine nonostante io non sia al 100%. Lo dico ma penso sia chiaro. Questo non è il mio vero aspetto quando sono malata. Io sembro più una piccola rana ma oggi ovviamente ho messo quintali e quintali di trucco per sembrare umana, per essere decente per voi. Mi sembra al minimo. Quindi grazie del vostro tempo. Se vi è piaciuto questo video come al solito mettetemi un like, iscrivetevi al mio canale, seguitemi su Instagram e ci vediamo venerdì. Ciao!